Il 21 dicembre scorso si è tenuto il Consiglio Comunale del Comune di Castellabate. Diversi erano gli argomenti all'ordine del giorno, ampiamente discussi e trattati. In particolare l'amministrazione comunale, preso atto delle criticità pregresse presenti in bilancio, ha approvato una serie di transazioni di debiti e debiti fuori bilancio che ha specificato sul sito istituzionale. Nello specifico appunto si riportano alcuni piani di transazione per debiti di cui risultavano creditori le seguenti. Società spese legali per una sentenza della Corte di Appello di Salerno da pagare per il bilancio in corso 2021 per la somma di euro 26.250 circa. Petroil SRL che si è occupata della gestione ed esecuzione dei lavori dell'impianto di gasolio della pompa a San Marco di Castellabate, debito spalmato in tre annualità per la somma di euro 27.700 circa. Servizi ecologici ambientali SRL che si è occupata della fornitura a noleggio delle presse compattatrici al Comune di Castellabate all'epoca sprovvisto di isola ecologica, debito spalmato in tre rate in due annualità per la somma di euro 62.000 circa. Corisa 4 erogatore di servizi per la raccolta dei rifiuti, debito spalmato in otto anni per la somma di euro 905.000.